Buona visione da MIP, Mega Italian Bio Foods, alimenti funzionali sinergici, a base esclusiva di cereali antichi e originali. Ben trovati a Cultura, Progresso e Salute in compagnia di Marco Bertelli. Benvenuto Marco, bentornato. Benvenuti a tutti. Allora lei, lo ricordiamo, è tecnico biodinamico e esperto di alimentazione salutistica, dedicata ad agricoltura ecosostenibile, cereali antichi originari, riequilibrio ecologico-climatico e forestale, energie alternative e rinnovabili, vivaismo forestale per il progetto Green Mondial System. Allora, oggi parliamo appunto dell'importanza dei cereali antichi e se è possibile, diciamo così, riconvertire la nostra vita ad una nuova alimentazione che ci può regalare davvero una salute. Allora, innanzitutto Marco le chiedo, l'alimentazione nutraceutica a base appunto di cereali antichi, si concilia poi con il numero, diciamo così, di popolazione mondiale, vale a dire, le risorse sono sufficienti per poter convertire a questa nuova alimentazione tutta la popolazione mondiale? Sì, allora, qui abbiamo anche una slide che tira fuori alcuni dati, adesso qua vediamo le metropoli che sono un po' un incubo di molte persone che vivono ingabbiati lì dentro, anche se hanno tutti i loro vantaggi, ma anche i loro dati negativi e le previsioni sono che appunto nel futuro saremo diversi, migliaia, il 70% della popolazione mondiale è rinchiuso nelle grandi città, dove la natura lì, cioè, riconvertire le grandi città a un sistema più ecologico, più ecosostenibile diventerà un'impresa immane. Secondo me l'umanità deve uscire dalle città, deve ritornare a popolare le zone agricole, quindi esatto contrario di quello che vogliono indurre la popolazione. Allora, se andiamo avanti con la prossima, ecco qua, se andiamo a vedere, quindi per rispondere alla tua domanda, Barbara, rapportata al totale della superficie della Terra, del pianeta nostro, diciamo nostro, non che l'abbiamo comprato, ma dove viviamo e di cui saremo anche responsabili del futuro di questo pianeta, non solo il diritto di saccheggiarlo come stiamo facendo fino adesso. Le terre emerse, che sono circa 15 miliardi di ettari, contano una superficie agraria utile, cioè quella dove io posso coltivare delle derrate alimentari, cioè quindi cereali, frutta, verdura, allevare i bestiame, eccetera, che sono più o meno, su 15 miliardi di terre emerse, 5 miliardi di terreni utilizzabili per la produzione agricola e zootecnica. E di questi 5 miliardi, 3,4 miliardi sono poi alla fine destinati soprattutto al pascolo, compresi anche gli alpeggi, nelle zone, diciamo, montane, e alla fine ci rimangono 1 miliardo, 4,6 miliardi, cioè 1 miliardo e 600 milioni di ettari, che sono coltivabili con culture erbacee. Se noi applicassimo in questo 1 miliardo e 600 milioni di ettari, che sono a varie latitudini, sia nelle zone intertropicali che anche nelle zone temperate del pianeta, se noi applicassimo il nostro sistema di doppio raccolto annuo, anche con una produzione bassa, che noi abbiamo già sperimentato in Pianur Padana, che funziona, e abbiamo delle varietà delle specie che si adattano anche nei contesti, diciamo, intertropicali. Noi praticamente, con questo sistema di doppio raccolto, abbiamo da 30 a 60 quintali per ettaro circa di cereali che si possono produrre in un anno. e quindi con solo 1,3 miliardi di ettari saremo in grado di produrre come minimo 48 miliardi di quintali. Dato che io con, esagerando, due quintali, un quintale mezzo, un quintale 60, posso produrre l'alimento, il pane, la pasta, i biscotti grissini che mi serve per una persona per tutto l'anno, per una persona adulta, cioè alla fine noi se coltivassimo in maniera biologica, con i cereali antichi, senza impatto ambientale, senza inquinare né l'acqua né il suolo, senza uccidere tutti gli animali, i rani, i rospi, gli uccelli, gli insetti, i farfalli che mi hanno fatto fino adesso, potremmo produrre da mangiare per 26 miliardi di persone. Quindi ci possiamo preoccupare quando arriveremo a 26 miliardi. E anche l'ecosistema ne gioverebbe ovviamente. È logico che noi parliamo di... Io ho un'esperienza di aver messo a dimora nella mia carriera anche di riforestatore, cioè realizzavo opere di rimboschimento, alcuni milioni di piante in tutta Italia, messe a dimora, prodotte dai semi, dalle talee, eccetera, e ha realizzato queste opere di rimboschimento. E quindi so benissimo di cosa stiamo parlando. Conosco anche tutte le tecniche per rigenerare le zone anche subdesertiche, per far piovere dove non piove più. Cioè, il problema è che manca quella qualifica a livello mondiale di un agronomo, di un tecnico biodinamico che conosca anche bene la forestazione, il riequilibrio ecologico, la fraternità di terreno, come si fa a piovere, come si fa a tornare a piovere. Cioè, mancano queste competenze. Oggi le istituzioni, le università non hanno competenze del genere. Marco, come possiamo creare, diciamo così, le basi per un'alimentazione sia produttiva che qualitativa? Sì, se noi guardiamo questo disegno che ho fatto io, il modulo minimo, c'è lì proprio la sintesi massima di tutte le caratteristiche che deve avere il modo di plasmare e gestire la coltivazione agricola. Cioè, innanzitutto vediamo che abbiamo una siepe perimetrale e tutto intorno a un campo, un campo che è circa praticamente 1,7 ettari circa. Praticamente, noi abbiamo su questo campo una fascia boscata perimetrale che fa l'azione frangivento. Cioè, immaginiamo che la Piano Padana realizzare questo sistema di fasce boscate frangivento, che hanno anche una funzione ecologica, va a creare un microclima dove non grandina più e piove quando c'è bisogno e si evita la siccità. E in più, l'azione frangivento andrebbe a migliorare la resa delle culture agricole. Poi, all'interno di questo sistema di siepi perimetrali che fanno anche da protezione, da miglioramento della biodiversità, perché gli insetti pollinatori, gli uccelli utili, il microclima, sono tutte cose che favoriscono le foglie stesse degli alberi che cadono sui campi, che vanno ad aumentare la fertilità del terreno, tutte cose che migliorano le produzioni agricole. Poi, all'interno, possiamo avere dei filari di fruttiferi, invece di tenere delle lande sconfinate senza neanche un albero, senza neanche un fruttifero, senza niente, solo seminativi, coltivati chimici, cioè, che adesso è proprio un disastro dell'agroecosistema, è quello che è il modo di gestire adesso dei campi. avere dei filari di fruttiferi, dove abbiamo meli, peri, susine, bicocchi, ciliegi, peschi, mandorli, noccioli, noci, cioè, fare anche degli alberi da frutto alternati. Una volta c'era la vite maritata ai fruttiferi o all'olmo, l'acero, ma si potrebbe fare ancora la vite maritata, non solo per produrre vino, ma anche per produrre succhi d'uva, uva da tavola, eccetera, e quindi è tutto un equilibrio che darebbe molto più mano d'opera da lavorare, naturalmente, ma una resa superiore, perché tutti questi sono prodotti nobili, cioè, andremo a produrre della frutta favolosa, un equilibrio ecologico, della frutta sana, potremo alternare nei seminativi gli ortaggi, i cereali, i foraggi, le piante da olio, cioè, diventerebbe tutto un altro modo di coltivare il paesaggio. Invece adesso queste grandi monoculture, che hanno dei prezzi infimi per gli agricoltori, cioè, un quintale di pomodori, se è biologico, se va bene, gli danno 18 euro il quintale, cioè, 18 centesimi al chilo il pomodoro che ci fanno le conserve, cioè, è una roba allucinante. Poi, questo sistema qua va a creare tutto un insieme di equilibri, di forze, di qualità, nutrizionale, di fertilità, che sono applicabili con tutte le dovute, diciamo, migliorie, cambiamenti e utilizzo di piante diverse in tutti i contesti coltivabili dell'uomo, del pianeta Terra. Cioè, che io sia nelle zone africane, asiatiche, americane, europee, posso benissimo applicare una logica di questo tipo, del modulo minimo, dovunque vado a coltivare. Quindi posso coltivare ovunque? Sì. A prescindere dalle condizioni climatiche. Se io vado, non so, sono andato a Santo Domingo perché dovevo parlare con la gente che vuole fare del fotovoltaico super produttivo e io sono subito andato in una biblioteca lì, nella città, a cercare dei libri sulla vegetazione perché io appena vedo le piante, mi appassiono, piante nuove, mai viste. Allora, lì ho trovato un libro che parlava della vegetazione dell'isola di Santo Domingo che poi è metà iti e metà Santo Domingo. e praticamente ho trovato che c'era una comunità nella giungla che coltivava alberi da frutta e aveva più di cento specie diverse di alberi da frutta tropicali, mai viste, non sopravamo neanche che esistevano, mai viste. Sono riuscito con un amico con una jeep fuori strada a attraversare fiumi e montagne e sono riuscito a raggiungerli e quando sono andato lì ho trovato della frutta fantastica che noi non abbiamo mai visto, ci sogneremo mai di poter mangiare. Cioè è logico che in ogni contesto io posso andare a trovare le piante giuste, la mia competenza in materia mi permetterebbe di programmare in qualsiasi modulo minimo che sia in Australia, che sia in America, in Asia, in Giappone, piuttosto che non so, dovunque vogliamo, in Africa. poi per esempio se io vado a vedere che una specie del Sud America la copaifera l'andorfi che è una pianta leguminosa arborea che cresce molto velocemente mi produce anche il petrolio verde cioè esce un liquido dalla corteccia che io posso estrarre con delle incisioni particolari come il cauccio una volta veniva cioè una volta anche adesso viene estratto dalla pianta del cauccio che viene fuori questa gomma io invece posso estrarre un liquido che è già utilizzabile per fare andare per far funzionare i motori a diesel cioè in Australia già coltivano queste piante per far funzionare le loro trattrici agricole e con 100 alberi che possono essere intorno a un perimetro di un ettaro io posso produrre tanto biopetroglio chiamiamolo così per far funzionare le trattrici agricole che possono lavorare 17 ettari ogni anno quindi praticamente se coltiviamo questo tipo di piante in Sicilia in Puglia in Campania in Basilicata in Sardegna noi potremmo fornire biocombustibili per tutti i trattori trattrici che lavorano in tutta Italia sempre a partire da biopetroglio e forse anche per una fetta dell'autotrazione che potremmo comunque produrre anche con altri sistemi sempre ecosostenibili quindi il discorso dei combustibili fossili che ci hanno accompagnato fino adesso nella nostra evoluzione hanno anche creato una civiltà molto consumistica però non è che possiamo abbandonare da un giorno all'altro avete mai visto cosa hanno detto a Glasgow o a Riad negli ultimi convegni internazionali che parlavano del cambiamento climatico delle ecosostenibilità del futuro hanno detto che non è possibile abbandonare i combustibili fossili non sanno dove come saltarci fuori non è sostenibile cioè a meno che è di crisi pazzeschi a livello economico e con gente che sarà sempre più povere e gente e solo pochi saranno in grado di pagarsi questa transizione ecologica a parte che la transizione ecologica come spiegheremo nelle prossime puntate non è obbligatoria perché l'eccesso di CO2 dei combustibili fossili mi crea sull'escalamento globale ma dobbiamo fare una transizione ecologica per smettere di tagliare le foreste vegini aumentare le nubi che portano l'acqua e creano un microclima a livello mondiale e dopo possiamo migliorare il clima mondiale nel giro di 10-15 anni abbiamo risolto il problema del surriscaldamento globale questo discorso che sembra una cosa fuori di testa che solo io sostengo attualmente sai i pionieri ci sono sempre praticamente mi sono messo a confronto con degli scienziati di RIAD dell'istituto di idrologia e meteorologia che mi hanno confermato che ragiona anche perché tutte le altre proposte sono insostenibili l'hanno già detto anche nei conveni internazionali certo quindi Marco questa sua proposta chiamiamola così potrebbe davvero dare un futuro alle nuove generazioni sì in poche parole noi creando un'agricoltura ecosostenibile che qui abbiamo un esempio chiaro di come dobbiamo gestire l'agroecosistema che quindi ci vogliono anche le piante io sono esperto anche di riforestazione perché non posso lavorare nell'ambito agricolo senza considerare neanche l'ambito forestale sono due cose strettamente unite possiamo creare un'agricoltura che diventa un sistema agroforestale ok? perché in Italia abbiamo metà della superficie italiana coltivata e l'altra metà a foreste dove c'è del verde quindi alla fine questo sistema agroforestale perché anche tutte le foreste che ci sono in Italia sono mal gestite sono ridotte molto male perché abbiamo per 3000 anni tagliato e portato via tagliato e portato via non sappiamo quello che abbiamo combinato nelle foreste quindi un macello Marco però è possibile diciamo così conciliare la produzione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo per una popolazione mondiale che lo sappiamo è in continua crescita se abbiamo detto prima che possiamo fare coltivando 1 miliardo e 300 milioni di ettari con i cereali antichi e potremmo andare da mangiare a 48 miliardi di persone quindi ce ne avanzano ancora 40 di miliardi da dare da mangiare il problema è che tutti dicono questo è pazzo non è possibile ma questa gente è mai stata in campo a coltivare qualcosa ha mai visto quali sono i veri cereali ha mai capito come si fa aumentare l'humus nel terreno mai visto come si fa un doppio raccolto che qua in Pianura Padana può produrre in un solo ettaro in un anno senza creare nessun squilibrio inquinamento i mangimi che avrei bisogno di fare con il maestro su tre ettari ha mai visto come si fa a fare queste cose quindi io le ho viste le ho fatte e gli altri se vogliamo ne parliamo ne discutiamo ne diamo confronto e vediamo cosa salta fuori però io parlo per esperienza non per e che cosa si può fare dunque per rigenerare l'equilibrio ecologico dell'agro ecosistema finché non c'è un'alleanza tra i consumatori e i produttori che decidono come deve essere gestito l'agro ecosistema per produrre dei veri alimenti quindi inutile che la gente continui a mangiare la solita patta il solito pane i soliti prodotti a forno che gli fa dei problemini vari assortiti e non capisce che cosa deve nutrirsi ogni giorno per veramente risanare tutto un metabolismo generale che oggi è degenerato perché gli mancano troppe cose finché non c'è quest'unione questa programmazione noi stiamo facendo questa cosa qua stiamo cercando di creare un mondo una filiera di produttori coinvolgendo un mondo di consumatori consapevoli per creare la programmazione se non c'è la programmazione non si va da nessuna parte non è che l'agricoltore dice adesso la facciamo poi speriamo di venderla oppure il consumatore adesso ho capito che Bertelli o qualcun altro mi ha insegnato che c'è un alimento funzionale nutraceutico adesso lo vado a cercare ma dove? chi è che te lo fa? l'hai programmato? perché se non lo programmi oggi se vuoi cercare un alimento vai al supermercato trovi quello che l'industria agroalimentare è arrivata fino a lì ma l'industria agroalimentare se ha un programma sicuro anche lei si orienta a fare delle cose di un certo livello è tutto un problema di programmazione quindi dobbiamo cominciare noi abbiamo salvato dall'estinzione un sacco di varietà le stiamo producendo su larga scala adesso stiamo lanciando degli alimenti però bisogna che ci siano delle quantità delle richieste programmate allora si può allargare cioè in 5 anni noi potremo coltivare tutti gli ettari fino a 6 milioni di ettari in 5 anni partendo di cereali che abbiamo adesso nei magazzini nella filiera italiana di cereali antichi potremo coltivare 6 milioni di ettari tutti i cereali antichi con un indotto occupazionale economico salutistico sballorditivo per tutti ci parla del progetto della pasta nutraceutica funzionale un progetto rivolto a tutti proprio questo progetto cioè noi partiamo da aver capito con delle indagini di diversi tipi di analisi ben precise quali sono i cereali più validi per fare la pasta a livello di frumenti duri a livello di frumenti turanici a livello di farmonococco a livello di faro di cocco distinguendo anche quelle varietà che non hanno epitopitossici che possono creare la reazione celiaca ok che poi andremo a brevettare con un sistema particolare di un lievito che elimina eventuali presenze piccole di qualcosa di anomalo e quindi con questi aggiungendo anche erbe medicinali altre fibre prebiotiche e funghi medicinali in piccole dosi opportune riusciamo a creare un effetto sinergico che mentre uno mangia ogni giorno si migliora drasticamente tutta una serie di metabolismo e di funzioni dell'intestino del sangue eccetera per cui va bene le cure mediche le prescrizioni mediche mangiare diciamo molto vario fare esercizio fisico ma se poi io mangio del cibo che mi crea permeabilità intestinale che non mi fornisce le sostanze che mi servono e mi crea dei problemi di vario genere che abbiamo già descritto 50 volte cioè io non vado da nessuna parte infatti in questa slide c'è una parola chiave Marco che è conoscenza non avendo le giuste conoscenze opera delle scelte che non vanno nella direzione giusta quindi l'importante è conoscere conoscere per controllare e partecipare partecipare non vuol dire adesso vado a comprare a fare la spesa al supermercato sperando di trovare qualcosa di buono devo riuscire a inserirmi in una filiera dove chi produce le cose buone induce anche i supermercati l'industria agroalimentare a orientarsi in quel senso lì perché deve nascere proprio la moda di mangiare il cibo nutraceutico sta nascendo e deve diffondersi sempre di più questa è l'unica chance perché abbiamo già visto che l'apparato delle istituzioni dell'Europa dell'Italia delle industrie agroalimentari delle industrie chimiche che fanno i presidi con cimi devono essere indotte a orientarsi diversamente non c'è pezza non è tutto che speriamo che dal lato qualcuno si venga illuminato hanno i loro problemini saranno anche loro ingabbiati in 3.000 altre cose ma non ci sono di aiuto perché è la tendenza che vediamo ogni giorno visto anche Marco la proroga dell'utilizzo di una sostanza che comunque fa male che è il glifosato sì ma allora quando io vado a vedere cosa fa l'industria chimica che elabora un pesticida ci mette non so 5, 6, 10 anni a capire qual è la molecola giusta di chimica artificiale per combattere un certo parassita ci spende un sacco di milioni in questa ricerca eccetera e poi presenta gli studi al ministero della sanità quello che insomma deve approvare che questa molecola si può mettere sul mercato e dice guarda questo qua usato in questi termini non crea problemi se non che il ministero della salute non può rifare tutto l'iter di studio che ha fatto l'industria chimica ok perché non hai tempo i soldi i mezzi per farlo e diciamo si affida quasi sì al 90% a dire poco a quello che gli dà come dati scientifici dell'industria chimica dopo 15-20 anni 30 anni di utilizzo di questa molecola salta fuori che invece si è creato un problema che ha inquinato qui che ha ucciso là che risultano dei dati dannosi allora cosa fanno danno tempo qualche anno per eliminare le ultime scorte e poi rimettono un'altra molecola in suo mercato questo è la prassi cioè finora hanno lavorato così con l'industria chimica allora cioè secondo voi è un sistema che può andare avanti all'infinito? perché adesso abbiamo due o trecento molecole residuali nelle falde nei fiumi nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee della Pianopadana che non sappiamo cosa faranno queste residui anche se sono piccole dosi perché loro studiano solo l'effetto di una molecola singola sull'organismo umano vivente non studiano il sinergismo di tutto questo cocktail di veleni cosa combina quindi noi continuiamo tra l'altro i pesticidi sono stati proibiti l'utilizzo già nel 2014 le leggi europee dicevano è proibito usare i pesticidi e si possono usare solo dopo che una perizia di un agronomo dice non si può usare altro che questo pesticida che ha minore impatto ambientale perché con le soluzioni biologiche non riusciamo a saltarci fuori non lo applicano questa legge non è applicata e quindi abbiamo la legge buona ma mai applicata e quindi a questo punto cosa serve fare le leggi valide quando poi non le applicano è come il trattato Tirfa che dice bisogna proteggere la biodiversità dei cereali delle piante coltivate dobbiamo essere riconoscenti gli agricoltori perché da secoli da millenni hanno portato avanti la biodiversità l'agricoltura e grazie a loro oggi possiamo mangiare tante cose buone e quindi dobbiamo dargli un premio riconoscere il fatto che loro possono produrre mai riconosciuto mai riconosciuto allora Marco ora noi ci fermiamo per dare qualche consiglio utile a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa cerchi un alimento salutistico per il tuo benessere per dare nuove energie e vitalità al tuo microbiota intestinale aderisci alla promozione del MIV Mega Italian Bio Foods puoi acquistare a prezzo scontato una delle 6 opzioni di pacchi di pasta funzionale nutraceutica a base esclusiva di cereali antichi e originali studiata scientificamente per soddisfare il nostro buon vivere per acquisti www.mibprosalus.com e sostieni la filiera nazionale di prodotti che operano in modo sostenibile ed ecosolidale Bene Marco siamo rientrati in studio quindi possiamo dire che l'atto più radicale più incisivo di tutte le cose che facciamo quotidianamente è ciò che mangiamo cioè ciò che ci troviamo sulle nostre tavole quello è fondamentale per la nostra salute Certo perché noi mangiando non solo ci nutriamo ma abbiamo fatto una scelta del cibo e quindi facendo questa scelta è anche un atto politico perché abbiamo detto vogliamo che vada avanti l'agricoltura chimica che mi fa questo tipo di alimenti vogliamo che vada avanti l'agricoltura biologica vogliamo che vada avanti questo tipo di cereale vogliamo che vada avanti quest'altro tipo di cereale cioè noi non siamo contro l'industria sementiera moderna contro l'industria chimica contro l'industria alimentare noi siamo per migliorare cultura progresso salute questo vuol dire che miglioriamo tutta l'economia non solo di qualcuno a scapito di qualcun altro perché le grandi industrie che fanno i prodotti chimici che problemi hanno hanno ingegneri tecnici soldi possono benissimo convertire le loro produzioni fare qualcosa che servirà a molte più gente rispetto a quelle che servono oggi quindi il loro business può solo aumentare hanno competenze spaventose il loro business può solo aumentare anche l'industria agroalimentare nel momento in cui io invece di fare la pasta 70-80 centesimi il pacchetto è mezzo chilo la vendo a 3-4 euro il pacchetto è mezzo chilo ma però è una pasta che ha una funzione me la mangiano tutti e posso guadagnare cioè l'industria agroalimentare ci può guadagnare anche di più e meglio ma ci guadagna anche l'agricoltore l'agricoltore quando non ha più i soldi per pagare la rata della trattrice agricola non riesce più a migliorare la fertilità dove va ogni giorno dagli ultimi dati ci sono 200 aziende agricole che chiudono i battenti cioè in 10 giorni 2000 aziende agricole se continuano così fra un po' c'è un casino di terra abbandonata e la gente poi cosa mangia gli agricoltori dove vanno cioè noi dobbiamo considerare che non possiamo continuare a fare un'agricoltura di rapina per fare del cibo che non non crea i presupposti per un'alimentazione nutraceutica certo quindi possiamo dire che una conversione chiamiamola così verso appunto i cereali antichi verso la produzione di questi cereali antichi giova a tutti e tra pochissimo Marco ci parlerà anche dei consumatori insomma che cosa quali sono i benefici che possono avere convertendosi così a questa nuova alimentazione a tra poco bene Marco siamo rientrati in studio e possiamo dire che oggi forse più di ieri c'è una maggiore consapevolezza di quanto le abitudini alimentari siano fondamentali per la nostra salute come possiamo diciamo così allargare la cerchia di chi mangia appunto ogni giorno questi alimenti salutistici che fanno bene appunto alla nostra salute allora dobbiamo ognuno deve fare la sua parte perché io e te siamo qua in questa trasmissione a cercare di spiegare delle cose che sono argomenti che si vengono dibattuti in generale però ne ho viste parecchie non mi sembra che ci sientino nei particolari più salienti più importanti della questione quelli che contano veramente e che possono anche perché ci vogliono delle soluzioni reali delle ricette che funzionano velocemente non abbiamo più tempo da stare a perdere in bei discorsi quindi il problema è coinvolgere coinvolgere vuol dire portare informazioni cioè ognuno che si sente di aver capito certe cose deve diffondere amici parenti conoscenti creare gruppi d'acquisto creare gruppi dove si indagano dove queste trasmissioni vengono riprese riguardate su youtube eccetera per capire perché non è che capiamo da un giorno all'altro tutte queste cose perché sono anche molto ricche di particolari cioè qua non credo che tutti potranno capire queste cose perché sono cose un po' complesse diciamo però quelli che cominciano a capire bene questi fatti devono diffondere quindi collaborare per diffondere il verbo certo come degli apostoli in poche parole è uguale possiamo dire che c'è anche forse una falsa credenza insomma me lo dirà lei sul fatto che quando ci si orienta verso questo genere di cibo le nostre tasche si impoveriscono ovvero parliamo proprio di denaro con il quale dobbiamo fare i conti purtroppo tutti i giorni questi alimenti salutistici incidono molto in una famiglia oppure poi si può risparmiare in termini appunto di salute quindi di spesa sanitaria oppure possiamo anche dire che noi magari siamo abituati ad una sovralimentazione quindi mangiamo tanto siamo abituati a mangiare tanto potremmo anche ridurre le nostre dosi stiamo parlando di spendere dai 2 euro e mezzo ai 3 euro e mezzo 4 euro al giorno mangiando cibi di questo tipo non è che stiamo pensando di spendere 20 euro al giorno ok quindi se poi le traduciamo in termini di salute di benessere che non lo trovi dietro l'angolo non lo compri in ferramenta cioè dobbiamo capire che cosa vogliamo portare avanti nella nostra vita ok poi quando io compro un prodotto che mi costa molto meno che però non ha considerato i costi sociali ambientali per produrlo che poi ricadono sempre sulla società e sull'ambiente c'è l'inquinamento i morti le malattie cioè ritorno indietro io alla fine divento anche complice di un sistema che porta avanti questo alimento che non è adatto al futuro dell'umanità e quindi mi carico il mio karma anche di problemini vari cioè che poi alla fine se uno è complice oltre che vittima cioè deve pagare lo scotto e quindi creare dei gruppi di acquisto creare un aumento dei consumi vuol dire ridurre anche i costi perché l'economia di scala mi riduce i costi anche degli alimenti funzionali adesso che siamo nella fase iniziale dobbiamo inventarci tutto capire tutto fare le analisi organizzare 3000 cose abbiamo i nostri costi nessuno vuol vivere nell'oro anzi anche perché questa rivoluzione chiamiamola così Marco implica comunque una formazione adeguata da parte di coloro che poi andranno a coltivare questi campi insomma gli agricoltori devono essere giustamente formati dove è la formazione di tecnici biodinamici in Italia o biologici ma i biodinamici sono molto più avanti dei biologici possiamo discuterne pacatamente in maniera tranquilla perché il problema è che la gente non vuole neanche più discutere non arma più il dialogo e il confronto non c'è più un sistema di persone che sono disposte a discutere pacatamente in maniera razionale primo perché a mangiare cibo spazzatura il cervello è andato in pappa cioè abbiamo neanche la capacità razionale di rapportarci col mondo e con gli altri l'immaginazione è ridotta ai minimi termini l'intuizione non se ne parla e l'ispirazione ciao e quindi come facciamo senza queste quattro facoltà della mente umana a progredire andiamo da nessuna parte e quindi il problema è quello proprio che non c'è neanche più dialogo allora è logico che se io devo formare un centro di formazione professionale dove istruire 30 tecnici all'anno 50 tecnici come faccio a istruirli? mica facendo delle belle conferenze o facendo di leggere un libro devono stare lì un anno due anni a lavorare in un'azienda dove trovano tutto cereali ortaggi frutta foreste gestione degli alimenti bestiame trasformazione e lì imparano tutti i trucchi energie alternativi imparano tutti i trucchi e questo qua costa dei milioni di euro un centro professionale però dopo quando hai decine o centinaia di tecnici così posso andare in giro a creare tutte quelle basi per coinvolgere gli altri agricoltori per strutturare questo sistema dove unisce l'esigenza dei consumatori con quelle dei produttori con quelle dei trasformatori con quelle agroalimentari però alla luce di conoscenze molto avanzate ma oggi non c'è questa formazione professionale e dove andiamo quindi senza questi professionisti perché dobbiamo formarli e ci vogliono dei soldi e chi li tira fuori è lì il problema allora se noi creiamo un'unione e un mercato nuovo di questi prodotti che si allarga abbiamo la forza per strutturare anche la formazione tecnica gli agricoltori oggi sono abbandonati loro stessi non hanno un'assistenza tecnica per non sbagliare per cambiare rotta loro continuano a seguire un diktat che è quello di dire usa sto diserbo usa sto concime usa sto seme fine e poi ti becchi quello che ti dice la borsa merci ah beh non ci sto dentro è così il prezzo è quello ciao e quindi dove vuoi andare il problema è questo è tutta una gabbia è tutta una trappola invece la sua ampia conoscenza in questo settore da che cosa nasce Marco la passione per la natura fin da piccolo sono sempre stato nell'ambito dell'agricoltura in provincia di Modena ho visto proprio il trapasso della biodiversità da quello che era quando ero piccolo che c'erano le raganelle attorno ai salici c'erano le rane in tutti i fossi i pesci in tutti i canalini i tritoni gli uccelli adesso scomparso tutto 52 specie di uccelli estinte ora rifatte drasticamente cioè i passi le nuove c'era piena è su zero cioè poi l'alimentazione io avendo avuto problemi di salute da piccolo che ho avuto un'enterite che mi stava uccidendo ho dovuto prendere mi sono rimasto scottato da questo problema ho dovuto prendere coscienza che l'alimentazione conta un altro che magari ingoiava senza problemi di tutto non ci ha fatto caso io ho dovuto prendere coscienza poi già a 18 anni ho cominciato a diventare vegetariano e poi ho cominciato a studiare nell'ambito dell'agraria a Bologna a facoltà di agraria a Bologna poi sono entrato dentro come servizio civile in un'azienda biodinamica e da lì ho ampliato i miei orizzonti su tutto il discorso della biodinamica e antroposofia poi ho avuto esperienze con tutti i biologici biodinamici d'Italia all'estero di qua di là è arrivato un passo anche dalla laurea che poi ha abbandonato a pochi esami pochissimi esami sì va bene non è che abbia perso diciamo un granché esatto perché poi mi ricordo che mi aveva appunto raccontato che un professore le aveva detto che alla fine lei ha molta conoscenza molta esperienza ma diciamo che le lauree hanno la loro notevolissima importanza ok cioè per cui il problema è che per oggi anche nell'università ci vuole più esperienza più lavoro diretto più esercitazioni più perché un agronomo esce fuori che non ha mai visto il modulo minimo non ha mai coltivato delle piante non ha mai capito come funziona la seminatrice cioè dove va sto agronomo come fa mi ha fatto vedere in tutto il corso di laurea praticamente le piante a frutta mi hanno detto due o tre regoline sulla potatura ma io se ho dovuto imparare come potare tutte le specie fruttifere mi sono dovuto studiare i libri di Domenico Tamaro dove ci sono tutti i trenta principi che è un libro del 1900 tutti i principi di come si presenta la capacità produttiva delle diverse specie e come riconoscere le gemme a fiori da quelle a frutto e capire com'è che si diciamo si modifica la vegetazione dell'albero a seconda se io poto inclino piego uso un portinetto di un tipo questa varietà rispetto a cui c'è la frutticultura è un'arte perché c'è un detto che dice piantando un albero da frutto io spero che produca un frutto concimandolo eccetera dandogli dell'acqua io facendo qualche trattamento con dei seti io lo prego di produrre la frutta ma è solo potandolo che lo obbligo in maniera oculata potandolo in maniera oculata che lo obbligo a fare la frutta quindi se io non so potare come faccio a fare la frutta oggi addirittura passano con delle macchine che tagliano così il frutteto fanno una specie di taglio da sieppe così sopra e di fianco l'edging e il topping come se basta tagliare e invece la potatura è fondamentale farla correttamente sì io ho visto delle piante ad esempio di campanino che è una varietà antica di mele dell'inizio del secolo scorso che venivano usate in provincia di Modena per fare delle mele che si conservano per sei mesi che usavano per fare le mele cotte buonissime ne ho mangiato una mentre venivano qua praticamente queste mele campanino piante di 80 anni avevano 5 quintali di mele per pianta ma erano piante gigantesche a vaso oggi campanino viene venduto sul mercato a 2 euro e mezzo allora proviamo a immaginare è una pianta che ti fa 5 quintali ma vendile anche a 1 euro e mezzo non dico a 2 euro e mezzo ok 1 euro e mezzo allora 5 quintali quanto fanno? sono 750 euro a pianta te vai a fare 750 euro con le altre mele prodotte con la chimica che non valgono neanche la metà di un campanino perché il campanino ha fatto l'analisi c'ha molte più sostanze antiossidanti e vitamine cioè alla fine cioè noi compriamo dei prodotti con dei soldi buoni frutto del nostro lavoro le nostre fatiche e cose portiamo a casa spazzatura perché ormai è il termine che viene utilizzato più frequentemente Marco invece su che cosa si basa una vera alimentazione nutraceutica la vera alimentazione nutraceutica deve avere come colonna portante sempre il cereale antico integrale e soprattutto attraverso una ricetta salutistica salutistica vuol dire che non è che io curo e guarisco tutti con questi alimenti attenzione l'alimento come diceva Ippocrate fai che l'alimento sia la tua medicina che la tua medicina sia l'alimento ok però io l'ho studiato scientificamente per cui uno mentre mangia ha speso dei soldi per comprare l'alimento mangia ma non si deve solo riempire la pancia deve anche sopprire tutta una serie di funzioni di esigenze della sua fisiologia del suo microbiota eccetera quindi ottimizzare il costo del cibo cioè prendere un cibo che veramente ti dà qualcosa che ti dà che ti aiuta a star bene e da questa la definizione di nutraceutica sì nutro e farmaceutica sarebbe stata coniata se non mi ricordo insieme da un giapponese ha l'azione sia nutritiva che anche diciamo non dico guaritrice ma quasi come una medicina in effetti anche Hipocrite diceva la stessa cosa no? però è un conto è dire che un prodotto è nutraceutico quando è un probiotico che ha dei microorganismi che ti rimettono in sesto un intestino rovinato non so da una cura di antibiotici è un conto invece avere un alimento che ha le fibre nutraceutiche le fibre prebiotiche che nutrono il microbiota perché tu puoi mettere i microorganismi buoni che arrivano in intestino e ti rimettono un po' in sesto l'organismo ma c'avevi già i tuoi che erano mezzi squinternati da vari problemi e qui li nutre perché quando arrivano gli dicono cosa c'è da mangiare? niente e buonanotte allora moriamo di fame cioè io devo nutrire è come la vacca perché la vacca quando rumina ha quattro stomaci e riesce a trasformare la cellulosa cioè questa parte qua della paglia lei la trasforma cioè noi la mangiamo moriamo di fame lei la trasforma in zuccheri la cellulosa lei mi cellulosa la trasforma in zuccheri e quindi riesce cioè il bovino ha una potenza bestiale perché ha questa capacità digestiva noi non arriviamo fino alla cellulosa ci fermiamo prima cioè digeriamo gli zuccheri digeriamo gli amidi ma digeriamo attraverso il nostro microbiota anche i polisaccaridi non cellulosici che sono una via di mezzo tra l'amido e la cellulosa quello lì però il polisaccaridi non cellulosico non lo mangiamo più perché il cibo non è più integrale è super degenerato che noi diciamo è raffinato non sappiamo quali sono le vere fibre giuste che non sono tutte valide per avere questa funzione cioè il microbiota trasforma la fibra prebiotica in acidi grassi a catena corta che sono quelli che ci rigenerano completamente l'intestino non la fibra in generale e quindi a questo punto noi ci nutriamo Marco comunque dei prodotti industriali che troviamo ampiamente nei nostri nei nostri botteghi supermercati cosa succede? i prodotti industriali devono cambiare rotta devono diventare alimenti fatti con queste ricette che noi abbiamo messo a punto perché sono ricette vincenti tutti quelli che mangiano i nostri prodotti si trovano molto bene perché hanno dei risultati immediati non è che da un giorno all'altro diventano superman però insomma migliorano gradualmente ogni giorno sempre di più sempre di più perché stiamo dando al nostro organismo al nostro microbiota proprio quello di cui ha bisogno quindi cereali antichi che non hanno effetti di sostanze tossiche allergizzanti integrali 100% erbe medicinali funghi medicinali fibre prebiotiche che vengono da altre piante come l'agave la cicoria l'opsilium la farina di lino tutte cose che messi insieme creano una ricetta vincente quindi stiamo parlando di prodotti che contengono all'interno non solo i cereali antichi ma anche altre sostanze sì il nostro è un alimento perché io posso mangiare l'erba medicinale posso mangiare il fungo medicinale posso mangiare le fibre prebiotiche posso mangiare il cereale integrale posso mangiare la frutta posso mangiare la verdura posso mangiare tante belle cose no? ok allora se tutte le varietà di ortaggi fossero esaminate per l'effetto nutriceutico andremo a scegliere certe varietà e non altre se tutte le varietà di frutta fossero esaminate per il loro effetto nutriceutico andremo a coltivare e a consumare certi tipi di frutta e non altre guarda caso Werner Schuppan famoso scienziato tedesco degli anni 50 aveva fatto un libro che parlava del valore nutrizionale degli alimenti valore nutrizionale degli alimenti ha esaminato 126 varietà di mele coltivate in Europa tra cui c'erano anche i mutanti americani e australiani e c'erano anche però tutta una serie di varietà europee il grosso erano varietà europee allora chi è che aveva più vitamine C e sostanze antiossidanti le varietà europee quelli americani erano nel 90% dei casi una sbrodolaglia acidola e zuccherina io ho fatto anche l'analisi della cristallizzazione sensibile per vedere il campo di forze vitali tra le mele europee e quelle moderne non c'è paragone c'è una differenza enorme parliamo invece dei prodotti che troviamo su questa tavola qui vicino a me c'è questa pagnotta che è davvero anche molto invitante e profumata sì allora quella pagnotta lì che è sempre fatta con questi cereali antichi ma anche con le fibri prebiotiche le lecine le farine di lino psyllium eccetera è ottima per fare tutto per farsi i panini ci può mettere dentro del formaggio del salame ci può mettere dentro qualsiasi diciamo affettato vegano non vegano che sia ed è molto buono perché io l'ho assaggiata ma oltretutto ha una caratteristica anche molto importante che è quella della conservazione sì certo quel pane lì è un pane che viene fatto con un lievito madre particolare che dà una conservabilità e un profumo e il fatto che continua anche a maturare dentro questo microbiota che ha il suo pane che continua a creare altre sostanze utili e più digeribili elimina anche l'acido fittico che è una delle sostanze che possono inibire l'assimilazione di certe sostanze ma solo se usi certi lieviti e anche se usi tutta questa ricetta per fare il pane e le paste invece ce le descriva un po' le paste praticamente queste paste sono paste che oltre a cuocersi anche un po' più velocemente di solito rispetto alla solita pasta tengono piuttosto bene la cottura si digeriscono benissimo non creano diciamo sonnolenza dopo il pasto sono molto saporite anche aprire il sacchetto e annusare il profumo si sente proprio l'odore di farina integrale appena macinata uno diceva come cioè un pasto che può durare due anni sullo scaffale apre sembra appena maciata un attimo prima e poi si possono condire con qualsiasi prodotto con qualsiasi sugo pronto adesso noi stiamo anche elaborando dei sughi pronti nutraceutici perché bisogna che orientiamo tutto il mercato a fare le cose giuste quindi i sughi nutraceutici i ragù nutraceutici anche la carne per fare il ragù alla bolognese oppure il pesto alla genovese cioè tutti questi ragù condimenti per condire la pasta si possono orientare tutti a fare un alimento nutraceutico a creare un connubio perfetto tra la nostra pasta super e il condimento super anche lì il riso invece? il riso praticamente è un riso dove uniamo la componente del riso integrale che in questo caso è basmati aromatico che si cuoce molto velocemente con il riso nero che veniva usato dall'imperatore cinese come riso privato dell'imperatore il riso rosso che sono ricchissimi questi due risi colorati di sostanze antiossidanti e di fibre prebiotiche insieme anche a riso basmati che ha un alto livello di amilosio e quindi è più lento accedere agli zuccheri essendo anche ricco di fibre perché sono tutti integrali al 100% poi c'è il monococco la granella di faro monococco che è la granella di faro monococco anche lei si cuoce molto velocemente non è come la granella di frumento duro frumento tenero turanico o di faro di cocco spinta cioè è una granella che te la metti appena raccolta quando è secca secca che ha il 12 10% di umidità la metti sotto i denti si rompe subito come un biscotto quindi è una granella soffice però si cuoce anche lei in circa 40 minuti come gli altri risi integrali e diventa un misto favoloso perché quello che manca al riso glielo fornisce il monococco quindi si ha una perfetta integrazione di tutte le sostanze nutraceutiche di ogni specie e ogni varietà di cereali inserito in questo in questa diciamo ricetta che si chiama riscocco che noi facciamo e poi uno lo può condire come vuole il suo riscocco se lo condisci come gli piace ed è buonissimo digeribile fantastico la farina invece? la farina abbiamo fatto anche delle prove con degli indiani che loro fanno il ciappati una specie di piadina schiacciata cotta con un po' di un grasso particolare che elaborano loro e quando l'hanno provata ho detto è una farina fuori c'è un sapore noi usavamo la farina bianca ma confronta questa qui ma per fare il gnocco fritto mia madre faceva il gnocco fritto che era una mantovana praticamente ci sono dei bel gnocco anche se era integrale 100% un bel gnocco gonfio con un sapore che solo diciamo fritto nell'olio di girasole era buonissimo digeribile leggero poi delle fette di salame fatte in casa con questo gnocco fritto era una roba fuori di teta con questa farina cosa possiamo fare possiamo fare di tutto dai pane fatti in casa alla pizza alle tigelle possiamo fare le torte anche i dolci quindi i dolci finché vogliamo e poi abbiamo anche dei biscotti 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 con cioccolato senza cioccolato con le granelle di nocciole con di noci con la farina di lino cioè tutti i biscotti che possono essere dolcificati o con zucchero di canna ma noi usiamo quasi solo zucchero di di cocco che ha un indice glicemico più basso ed è ricco di altre sostanze utili poi usiamo la farina di cocco perché la farina di cocco dà un aroma anche a dei prodotti da forno come anche il biscotto che e poi anche lei ha un'azione nutraceutica quindi diciamo che sono anche dolci che possono essere indicati a chi soffre per esempio di patologia come il diabete sì possiamo fare diciamo dei biscotti biscotti con queste nostre ricette di tutti i tipi anche cioè noi possiamo come abbiamo detto l'altra volta fare delle torte che curano il diabete dolci buoni però tutta un'altra cosa mancano pochi minuti vorrei che lei ci ricordasse quel convegno che è avvenuto tanti anni fa perché se non sbaglio era il 1994 sì in questo convegno che bisogna ripeterlo all'infinito perché non basta cioè è un punto di riferimento storico nell'evoluzione dell'umanità è stato fatto a potenza nel 1994 si intitolava il farro un cereale della salute che qui vediamo un diagramma colonna che era appunto in questo convegno possiamo vedere che le fibre che lì vengono illustrate con le colonne scure di polisacardi non cellulosici che sono le fibre più importanti per il nostro microbiota intestinale ma anche delle cellulose dell'ignina erano in quantità a parità di farina macinata di granella macinata nel farro erano molto superiori alle colonne bianche che indicano invece la farina integrale dei frumenti duri o teneri cioè vuol dire che se io prendo in mano un farro di cocco come questo e un frumento duro o turanico come quest'altro e poi dico chi è che ha tra i due la maggiore quantità di fibre prebiotiche che è nuto in microbiota e in mio intestino il di cocco quindi noi perché usiamo sempre almeno un 50% di farina in tutte le ricette almeno per non dire il 55-60 dove ci sono almeno i farri sempre i farri un monococco di cocco spetta e l'altro 50% usiamo i frumenti nudi che sono il duro il tenero il turanico il turgido eccetera perché vogliamo sempre che le fibre siano il più possibile quelle che nutri microbiota poi dobbiamo unire che ad esempio le sostanze nutraceutiche che mi fa il duro magari il farro non me le fa perché ci sono altre sostanze non ci sono solo le fibre creando questo misto di tante specie tante diverse varietà nella stessa ricetta creiamo un sinergismo una moltiplicazione degli effetti salutistici quindi insomma per tirare un po' le somme di questo convegno era emerso che questo tipo di alimentazione era davvero benefica soprattutto per chi aveva varie patologie il farro ha dimostrato di curare cioè curare nel vero senso la prova perché sono guariti pazienti che avevano malattie incurabili in quantità superiore al 90% intorno al 90% allora Marco possiamo dire che cambiare si può e cambiare conviene per migliorare quella che è la nostra qualità di vita assolutamente bisogna scegliere bisogna partecipare bisogna coinvolgere bisogna conoscere e bisogna conoscere perché se uno va a testa bassa sbatte contro il muro e poi dopo si fa anche male allora Marco noi l'aspettiamo presto nei nostri studi e ci parlerà ancora dell'importanza appunto di questi cereali antichi bene l'aspettiamo presto auguri a tutti buona salute arrivederci arrivederci a presto Al prossimo episodio